Dopo le gravi accuse di molestie nei suoi confronti risalenti allo scorso dicembre, il premio Oscar Geoffrey Rush è virtualmente costretto in casa propria da circa tre mesi e pensa che la sua carriera nel mondo dello spettacolo sia irrimediabilmente compromessa. Rush ha infatti citato in giudizio la redazione del quotidiano degli Telegraph e il giornalista Jonathan Moran per diffamazione, a causa di alcuni articoli che parlerebbero di comportamenti inappropriati dell'attore nei confronti di una collega, Erin Jean Norville. Tali molestie sarebbero avvenute nel 2015, nello specifico durante la produzione della tragedia Ralear da parte della celebre compagnia teatrale Sydney Teatre Company, in una scena dove Rush trasporta la Norville mentre l'attrice finge di essere un corpo senza vita. Rush, ovviamente dichiaratosi innocente di fronte a delle accuse che lo ritrarrebbero come un predatore sessuale, afferma di soffrire d'ansia e mancanza di sonno per la vicenda e di dover ricorrere all'utilizzo di farmaci per trovare un po' di sollievo. I documenti consegnati dai legali dell'attore al Tribunale federale di Sydney parlerebbero di un uomo distrutto da quelle che ritiene false accuse, un uomo talmente provato che ha perso l'appetito e quasi non mangia più. Le accuse nei confronti di Rush sono state associate in Australia e nel mondo al cancelletto Metow Movement, movimento contro le molestie sul luogo di lavoro che si è diffuso rapidamente in seguito allo scandalo che ha coinvolto il produttore Harvey Weinstein. Ricordiamo che Rush, in seguito alle accuse, lo scorso dicembre si è dimesso dal ruolo 501 presidente della Australian Academy of Cinema in Television Arts. L'attore ha inoltre già vinto una precedente causa legale ai danni del Daily Telegraph lo scorso febbraio. Dal suo canto il Daily Telegraph ha dichiarato che gli articoli scritti dai suoi redattori su Rush non sono diffamatori e non accusano di molestie sessuali l'attore. D'altronde il mese scorso il giudice Michael Wignie del Tribunale federale di Sydney ha affermato di avere seri dubbi riguardo la veridicità delle affermazioni del giornale quando si erge a difensore della verità. Nation Whedon News, responsabile della pubblicazione del Daily Telegraph, ha a sua volta citato in giudizio la Sydney Teatre Company per il suo coinvolgimento nelle accuse di diffamazione mosse da Geoffrey Rush. Dunque una situazione a dir poco complicata per l'attore, che rischia anche egli d'essere risucchiato nello scandalo sessuale che ha travolto Hollywood negli ultimi tempi. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.